Ciao, sono Eduard Lemial, vengo dalla Francia. Il mio film tratta del rapporto sul passato e presente di Craco. Buona visione. Nico, nipote mio, ho aspettato 54 anni per scriverti questa lettera perché così a lungo e perché ora è molto semplice. Quando avevo esattamente la tua età, ho lasciato il mio amato paese in Italia. Se non lo ricordi, il nome si chiama Craco. È questo posto meraviglioso costruito su una collina circondata da montagne infinite. Nelle giornate limpidi, in cima alla torre, si vede il mare. Mi sento più felice di quanto sia mai stato. Più di tutto, mi sento al sicuro e stavo vivendo la vita più sana che un giovane adulto possa vivere. Molto diverso da tutto quello che stai vivendo, tu adesso. Sono stato costretto a lasciare Craco e scegliere di emigrare in America perché Craco era l'unico posto che conoscevo in Italia. E non volevo che cambiasse per il mondo. Non sono nemmeno mai andato al mare. Non so nuotare. La mia vita era lì e prima di andarmene e non tornare mai più, ti ho lasciato con una ricerca molto speciale che vorrei farti vivere. Per favore, porta con te una bantana, una bussola e un asciugamano. Queste sono le uniche cose di cui avrai bisogno per il tuo viaggio. Goditela e scoprirai le tue radici. Ho un messaggio molto importante da consegnarti. Ecco il tuo primo indizio. Cerca via Fumel. All'interno della casa, che ha una finestra a forma di croce, su uno dei scaffali c'è un anello rotondo. Guarda di lato. Buon viaggio, Nico. Buon viaggio. Scusi, tu sai dove è Fumel 5? Scusi, tu sai dove è Fumel 5? Grazie. Scusi, tu sai dove è Fumel 5? Scusi, tu sai dove è Fumel 5? Scusi, tu sai dove è Fumel 5. Scusi, tu sai dove è Fumel 5? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devi indossare la bandana che ti ho detto di portare e camminare verso ovest per dieci passi. È importante che tu indossi sempre questa bandana. Fidati di me. Non cadrai, almeno che non inciampi. Sulla parete di fronte a te c'è una fessura con una nota. Devi indossare la bandana che ti ho detto di portare. E camminare verso ovest per dieci passi. Hai davvero messo la bandana sugli occhi? Sì, sei arrivato fin qui e sono molto fiero di te. Questa è l'ultima ricerca. Ti darò tre indizi. Il primo, un posto dove non andrei. Il secondo, rima con sorpresa. L'ultimo è penetrato dalla luce. Capito? Bene. Questa era facile. Ed è proprio qui. In questo posto troverai un albero. E se guardi bene da vicino vedrai una corda. Dovrai tirare la corda. E la tua ultima ricerca giungerà a termine. E la tua ultima ricerca. Dovrai tirare la corda. E la tua ultima ricerca. Non crescere mai. Non crescere mai. Non crescere mai. Non crescere mai. Non crescere mai.